C'è anche l'assessore regionale allo sviluppo economico e alle attività produttive della regione Calabria, Carmela Barbalace, nel mirino della DDA. Il suo nome compare infatti nell'elenco di 291 indagati dell'operazione Mandamento Ionico. Il suo coinvolgimento nell'indagine non si riferirebbe al suo ruolo di assessore, ma alla sua attività di dipendente della regione Calabria, in servizio presso l'assessorato all'agricoltura e precisamente come componente della commissione di riesame relativa alla misura 112-121. Si ipotizzano i reati di abuso d'ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni. Alla Barbalace e altri due componenti della commissione, relativamente alle istanze prodotte dagli esclusi della credottoria provvisoria del bando regionale del PSR Calabria, misura 112-121, viene contestato di aver svolto la propria funzione senza rilevare delle violazioni procedurali. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero così indotto in errore l'Arcea, l'Agenzia regionale per l'erogazione in agricoltura, che in base all'esito dell'istruttoria ha erogato un contributo comunitario, emettendo un decreto di pagamento in favore di un imprenditore agricolo, a sua volta indagato. Appresa la notizia del coinvolgimento della dipendente regionale, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, Paolo Parentela, Federica Dieni, Nicola Morra, ne hanno immediatamente chiesto l'allontanamento da ogni carica pubblica.